bella a tutti asfaltoni benvenuti e bentrovati su leontube eccoci in questo video con un nuovo codice che vediamo subito e y l w maiuscole y minuscola m maiuscola e s z r minuscole andiamo subito a vedere il nostro premio a riscuoterlo ben 310 gettoni ottimo regalo davvero per usare il codice dovete venire quassù dove c'è l'ingranaggio delle impostazioni di andare di qua nelle impostazioni usa il codice e di mettere il vostro codice se il video vi è piaciuto vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti